vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org i peccati contro la purezza sono tutti gravi sia quelli commessi da soli sia con qualcun altro sia con la contraccezione sia con la fantasia sono ancora più gravi se la persona in questione è battezzata e se si tratta di due persone se uno dei due o tutti e due sono sposati con un altro se uno o due sono consacrati o se tutti e due sono dello stesso sesso anche peccato grave suscitare la passione sessuale senza però completare l'atto perché già l'inizio dell'atto e l'incontro fornisce l'occasione per completare l'atto si ricordi che nell'atto di dolore si promette di evitare le occasioni del peccato purtroppo nel mondo di oggi questi peccati non vengono più considerati come peccati ma persino come un diritto dell'uomo come ci dobbiamo comportare da buoni cattolici noi cattolici dobbiamo nuotare contro la corrente di una perversa generazione perché solo chi nuota contro la corrente può raggiungere l'acqua sana fresca e pura ascoltiamo gli apostoli che vissero in un'epoca simile alla nostra san pietro scrive non si deve servire più alle passioni umane ma alla volontà di dio nel tempo che gli rimane in questa vita mortale basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo vivendo nelle dissolutezze nelle passioni per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano san paolo scrive perché questa è la volontà di dio la vostra santificazione che vi assegnate dall'impudicizia che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto non come oggetto di passioni e libidine come i pagani che non conoscono dio dio non ci ha chiamati all'impurezza ma alla santificazione san pio decimo insegna nel suo catechismo che per mantenerci casti conviene fuggire cattive compagnie la lettura di libri e dei giornali cattivi l'intemperanza il guardare immagini indecenti gli spettacoli licenziosi le conversazioni pericolose e tutte le occasioni di peccato una persona che trova che le sue forze naturali sono inadeguate a mantenere la castità deve pregare l'aiuto di dio che non chiede mai l'impossibile viene raccomandato il ricorso frequente al sacramento della penitenza alla santa comunione quando la persona in stato di grazia e la recita fervorosa del santo rosario verrà dato l'aiuto necessario in modo particolare agli sposi mediante le grazie che provengono dal sacramento del matrimonio per fidanzati come si devono comportare il fidanzamento non ha senso se non il rapporto al matrimonio in vista del matrimonio però si devono comportare in modo modesto puro modesto e disciplinato mai comportandosi in un modo in cui si vergognerebbe essere visti ad esempio dai propri genitori solo così si possono preparare a un matrimonio stabile e duraturo la preparazione peggiore al matrimonio è l'impurezza tra i fidanzati perché crea un terreno edonistico incapace di sostenere una vita matrimoniale autentica fino alla morte anzi è il modo ottimo per distruggerla già prima che non venga in esistenza talvolta qualcuno si chiede perché tanti matrimoni falliscono oggi la risposta deve essere perché vengono visti come qualcosa di ordine veramente naturale i sentimenti vengono glorificati preparano un terreno fatale per il matrimonio e quando dopo il matrimonio vengono meno il rapporto si scioglie c'è un edonismo onnipresente un'ignoranza sulla natura del matrimonio la sua istituzione divina la sua natura sacramentale non c'è preghiera non c'è fede la fede illuminata dalla dottrina cattolica e vivificata dalla carità è la preparazione indispensabile per il matrimonio e per qualsiasi altra scelta o azione della nostra vita una parola sulla castità perfetta questa specie di castità si distingue per un voto o una promessa solenne per il suo scopo che è cioè di dare se stessi a dio completamente con il cuore indiviso una differenza particolare tra la vita matrimoniale la vita consacrata e la capacità della persona consacrata di darsi completamente a dio con un cuore indiviso anche se san paolo ne parla esplicitamente molti uomini della chiesa di oggi pretendono che tutti e due i tipi di vita siano sullo stesso livello non è vero la castità perfetta o verginità consacrata è un segno più chiaro del matrimonio dell'unione di cristo la sua chiesa sappiamo che una caratteristica del matrimonio sacramentale è il segno dell'unione di cristo la sua chiesa ma la vita consacrata ne è un segno ancora più chiaro come dice papa più dodicesimo nella sua enciclica sacra virginitas nella parola di san cipriano queste anime consacrate sono uguali agli angeli di dio il loro amore possiede una purezza e splendore particolare la vita consacrata si caratterizza per i tre voti i voti della castità obbedienza e povertà questi voti combattono le tre concupiscenze conseguenti al peccato originale la prima è la concupiscenza degli occhi che il desiderio di possedere cose informazioni in modo eccessivo contro questa concupiscenza sta il voto di povertà la seconda è la concupiscenza della carne di cui ho appena parlato e il voto in questione è quello della castità la terza è la concupiscenza della propria eccellenza la concupiscenza spirituale la superbia della vita il voto che contrasta questa concupiscenza è quello di ubbidienza per mostrare che questo tipo di vita la vita di perfetta castità è più alta di quello matrimoniale il concilio di trento dichiara infallibilmente che è beatius et melius vivere così vuol dire più felice e migliore con queste riflessioni sulla castità perfetta siamo tornati all'inizio di questa conferenza lo splendore della castità la dottrina della santa chiesa cattolica sulla castità è logica anche se è considerata eccessiva dei figli del mondo in verità però non è eccessiva ma molto realista è il richiamo alla ragione al buonsenso una sfida alla maturità alla responsabilità all'integrità ed al coraggio non siamo irrazionali non crediamo alle convenzioni in un modo sempre più degradato e pervertito non seguiamo le nostre emozioni disordinate a causa del peccato originale che conducono infine solo al sentimento del vuoto della tristezza e persino alla disperazione per non parlare dell'inferno bensì controlliamoci e moderiamo le nostre emozioni con la facoltà più alta della ragione per vivere in pace e felicità nella pienezza delle virtù in nomine patris et fili et spiritus sancti amen vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org